Buongiorno a tutti, sono Enrico Maria Corno di Sportado24, siamo all'Alpe di Pampeago in Val di Fiemme per gli Schi-Test 2017. Questo scarpone che Osvaldo Paissan di Nordica ci sta per presentare è il grande ritorno della stagione. Torna lo Speed Machine di Nordica dopo qualche anno di assenza dal mercato. Osvaldo, raccontaci tutto di questo scarpone. Sì, come dicevi tu Enrico, questo è un grande rientro sul mercato. Noi dopo ben cinque anni ripresentiamo questa scarpa storica per Nordica dove ci ha dato nel tempo tante soddisfazioni per cui noi richiamando il nome del passato abbiamo creato però un prodotto totalmente nuovo dove la performance, il peso e il fit la fa da padrone. Questa scarpa nell'intento di Nordica è un progetto che partirà anche nel futuro per poter essere customizzabile in qualsiasi momento della stagione con un tempo che poi presenteremo il meccanismo con questa nuova macchina che permetterà ad ogni scettatore di avere una scarpa veramente personalizzabile senza nessun dubbio sul punto dove si dovrà intervenire. La forza della customizzazione di questa scarpa è proprio quella di andare a cercare il punto dove noi creiamo un problema. La scarpetta all'interno ha una scarpa che anche quella è termoformabile fatta in materiale naturale dove noi usiamo il sughero fatta con il primalof per cui massima termicità e soprattutto tenuta della temperatura durante la giornata. Come vedete essendo una scarpa molto molto comoda lo stesso ha delle forme molto essenziali perché la scarpa deriva come progetto dal nostro scarpone GT 130 Doberman, scarpa che ha fatto il passato di Nordica come scarpa da gara. Ok allora ci hai già riempito di un sacco di input facciamo un attimo il riassunto stiamo parlando di uno scarpone Nordica innovativo con uno scafo di alta qualità la differenza la fa la scarpetta interna che è termoformabile a differenza degli altri scarponi non viene termoformato lo scafo esterno ma solo la scarpetta interna che è in primaloft e in sughero e invece con un macchinario con una tecnologia innovativa brevettata da Nordica lo scafo esterno viene termoformato soltanto dove vi fa male. Se come succede a molti vi fa male il piede nello scarpone vi fa male in questo punto loro usano questa tecnologia tale per cui lo scafo riscaldato agli infrarossi si modifica addirittura di due millimetri e mezzo e sarà come avere uno scarpone da gara comodo come un paio di ciabatte. Esatto questa scarpa qua proprio ci darà proprio questo tipo di soddisfazione dove anche il negoziante che andrà a lavorare su questa scarpa in soli nove minuti sei minuti di riscaldamento delle plastiche più tre con questo sistema di estrazione a vacuum sulla scarpetta permetterà a tutti quanti di avere una scarpa veramente al top a livello di performance e soprattutto di comfort perché questa scarpa noi crediamo che sia la scarpa più performante e più confortevole in questo momento sul mercato. ok allora abbiamo visto lo speed machine ha in mano uno scarpone durezza 130 tutta questa tecnologia di cui parlato parlato fino adesso vale sia per gli scarponi da uomo che per gli scarponi da donna e per tutte le durezze quante durezze ci sono per nordica su questo scarpone? bellissimo Enrico hai puntualizzato noi praticamente di questa scarpa qua abbiamo dei flex che vanno dal 130 passando per il 120 il 110 e il 100 nella versione uomo 115 105 e 95 nella versione donna per cui un range di utilizzo da parte dello scettore veramente notevole molto ampio sì è per quello che noi vorremmo coprire un po tutta quanta diciamo la pancia del del potenziale mercato dello scettore di un certo livello con dei flex dedicati buon Grazie. Grazie.